ciao ragazzi e benvenuti a tutti in un nuovo ragazzi oggi io vi propongo ok considerando che le auto elettriche stanno facendo dei bei numeri che l'interesse della popolazione non solo italiana ma mondiale si sta spostando piano piano sulle auto elettriche ragazzi qui dobbiamo fare molta attenzione perciò oggi vi propongo un dibattito un dibattito che mi piacerebbe conoscere anche la vostra sotto in descrizione commenta fammi sapere cosa ne pensi tu di questa mia idea che poi non è una mia idea perché già in passato si è letto qualcosa qualche casa costruttrice ha ideato questa soluzione però ragazzi e fini a se stessa e fine a quella casa automobilistica che non mi ricordo oggi neanche qual era parliamo delle batterie il problema più grosso di un'auto elettrica è il pacco batterie la ricarica di questa batteria ma perché numero uno tempi di ricarica molto molto elevati lunghi ragazzi lunghi ok e anche se oggi ci sono chimiche migliori perciò ti permettono di fare dei supercharger delle ricariche velocissime però ragazzi queste ricariche velocissime tra parentesi possono essere anche pericolose perché ricarica supercharger vuol dire una grandissima botta di potenza di corrente ragazzi lì non si scherza li abbiamo cavi elettrici che sono grossissimi e che mandano pompano elettricità alla batteria e poi ragazzi ovviamente c'è anche il problema oltre tempo il problema garanzia durata affidabilità pericolosità di agli incendi tante batterie si incendiano in fase di carica perché perché come funziona una batteria una batteria quando è scarica per all'inizio per arrivare per esempio all 80 per cento richiede l'elettronica dalla ricarica richiede un altissima corrente ok man mano poi che si va a ricaricare 82 85 89 90 95 poi va a scendere perciò il primo periodo di ricarica sarà una ricarica poi rallenta in quel primo periodo ragazzi dove i cavi spruzzano energia e lì tante volte capita che l'elettronica interna delle vetture le batterie si sovraccaricano e si riscaldano comunque incidenti possono anche prendere fuoco senza essere messa a caricaresi se c'è una cella difettosa in base poi ovviamente alla chimica le litio ioni sappiamo che sono meno stabili perciò più instabili dell'eltio delle life più 4 perciò ragazzi questo è il quadro ora la mia idea qual è la mia idea quella di una buona soluzione fosse quella non di andare in colonnina mettere la calca il cavo di ricarica guarda tu neanche fosse ragazzi uno smartphone questo ragazze il mio smartphone con questo cavo gigantesco per poter andare ad avere una ricarica super fast guardalo guarda che cavo enorme perché più grosso il cavo più veloce sarà la ricarica perché il conduttore interno può permettere lo scorrimento di una corrente più elevata ok allora ritorniamo al punto tutte le per me ok la mia soluzione è quella che tutte le case automobilistiche che sia fiat woswagen ford peggio chi ha i undai tutte ok tutte le case automobilistiche che commerciano in europa dovrebbero sviluppare insieme un pacco batterie con un funzionamento a distacco ragazzi distacco leva e metti questo sta a significare che quando la mia auto a una batteria scarica io ripeto non vado a mettere il cavetto e ricaricare no io mi rego in un'area di servizio di ricarica salgo su un ponteggio il ponteggio automatizzato in automatico riconosce la mia vettura mi dice che batteria vuoi montare oggi da 50 kilowatt da 60 kilowatt da 90 kilowatt io clicco da 90 kilowatt devo fare un viaggio un po più lungo mi serve più autonomia per 90 kilowatt per esempio l'autolavaggio automatico posizioni lì l'auto e la il l'elettronica la domotica il sistema automatizzato ti lava la macchina bene questo sistema automatizzato ti cambia la batteria estrae la tua batteria che è sotto ok v va e mettere l'altra batteria scelta da te perciò questo sta a significare che tutte le case dovrebbero andare a creare un socket sotto le macchine uguale dei connettori uguali così tutto si andrebbe a poter utilizzare su tutte le auto ok poi ovviamente ripeto ci sono i tagli le auto di classe a b segmento a segmento b un po più grande un po più piccola tu devi solo capire che auto hai e quale batteria in dimensione puoi andare a montare poi ci sono le variabili più capacità meno capacità o in alternativa per il costruttore basta andare a modificare il firmware interno di quella batteria perde potenziarlo o per sovra potenziarlo cioè loro vanno a fare 10 batterie ma parliamo ragazzi di pacconi batterie fatti apposta per la lettura e non singola cella e poi modificano i firmware in uno mettono più potenza in uscita in uno mettono più autonomia e te lo fanno pagare differentemente quanto saresti disposto a pagare tu per un cambio batteria che ti ruba il tuo tempo per non più di quattro minuti cioè tutto questo ambaradam quattro minuti io vado poso l'auto parcheggio ok su questo ponte e il il sistema domotico elettronico meccanico farà tutto il resto sgancia estrae posa la batteria nel distributore sarà già carica ok perché il distributore deve avere già cariche tante batterie perché da qui a qualche anno ragazzi le auto elettriche forse aumenteranno perciò gli utilizzatori saranno molti di più non possiamo metterci tutti a litigare alla colonnina cavo di qua un cavo di lì quello si parcheggia lì poi la sua batteria e carica non la stacca a me serve la carica non posso ricaricarmi perché lui si occupava la colonnina perciò ragazzi usciranno anche problematiche e non ci nascondiamo anche di una cosa i vecchi smartphone avevano batteria estraibile poi per vari motivi che che ragazzi alla fine per quale motivo loro hanno fatto ora invece come questo smartphone batteria oggi sono tutti così almeno che qualche cine sotto batterie non estraibili perché ragazzi così da avere sempre comunque lo smartphone alimentato se io volessi non farmi tracciare dai satelliti io vado levo la batteria il mio dispositivo è completamente disconnesso dai satelliti e tutto questo ragazzi mi permette la mia privacy ok oggi con questi smartphone che non ti permettono di eliminare la batteria di staccarla il tuo telefono è sempre comunque alimentato anche se tu lo spegni lui può raccogliere dati lui può fare la qualsiasi c'è questa cosa a chi piace c'è a chi non piace idemma anche con le auto elettriche le auto elettriche nascono con batteria fissa ovviamente anche lì ti tracciano anche lì grande fratello perché ci sono quelle che hanno le telecamere tu non sai chi va a vedere quelle telecamere interne esterne comunque ce le vendono facendocene piacere come per gli smartphone so è arriva all'inizio è arrivato lo smartphone ip 68 può andare in acqua non si rompe lo puoi bagnare puoi fare puoi dire però il segreto quale è che la batteria è fissa ora nelle auto elettriche la stessa cosa però giustamente diciamo non posso io autonomamente andare a togliermi la batteria nell'auto elettrica perché ragazzi lì si pesano 700 800 chili un pacchi batterie enormi come faccio io con un carrellino a togliermi la batteria non parliamo di una moto elettrica le moto elettriche prendi dalla manico porti a casa ricarichi ok qui invece deve essere tutto un sistema fatto apposta studiato per poter andare a togliere il pacco batterie della vettura e tu con un computer touch scegli cosa vuoi devi fare un uso cittadino batteria piccola più leggera così di consuma di meno via devi fare un lungo viaggio mi serve la batteria più potente questo su tutte ragazzi dal momento in cui la macchina prende la mia batteria la ritira la tramite dei rulli la trasporta e la va a posizionare in carica ricarica lenta non supercharger perché le batterie che ricaricando le veloci si possono anche danneggiare anzi si danneggiano perciò se uno stock di 20 pacchi batterie sta lì fermi e poi durante la giornata si ricaricano man mano vengono i clienti a cambiarsi il suo pacco quelli carichi vengono montati nelle vetture quelli scarichi che rientrano vanno messi automaticamente in ricarica ragazzi se voi andate sul canale vedete i miei video passati di 3 4 5 6 anni fa io sono arrivato sempre prima della tecnologia io già un sei anni fa avevo predetto che nascevano nuove opportunità lavorative come i furgoni a batteria nel senso che tu resta a piedi telefoni viene il furgone ti mette a caricare la vettura dove sei sei oggi è una realtà oggi tanti hanno avviato questa forma di lavoro ragazzi e poi tanto tanto altro se non l'hai fatto iscriviti ora al canale e vai a vedere tutti i miei video ragazzi io sono un appassionato di tecnologia di fai da te di energia io amo l'elettrico io sono il primo che punta sull'elettrico però ragazzi non un elettrico come quello di oggi perché è vero l'elettrico tu lo preferisci per la potenza per la stabilità per l'efficienza però sappi che l'elettrico può essere comandato a distanza come fanno oggi per i nostri contatori dell'energia che ce li abbassano di potenza se non paghiamo che eventualmente ce li possono anche disattivare a distanza potrebbero farlo anche lì perciò se io debiti con lo stato se io debiti con le banche chissà che non mi blocchino l'auto elettrica perché ragazzi alla fine e pigiare un tasto questo tasto pilota la tua vettura la spegne e tu non la potrai accendere mai più oggi con le vetture endotermiche a motore termico non è possibile oggi vengono ti mettono i sigilli ti mettono fisicamente le ganasce ma dare modo non possono far nulla perché non c'è un sistema tecnologico smart che può permettergli di bloccarti l'auto ragazzi per questo video è tutto spero ti sia piaciuto ciao belli al prossimo video ciao